buongiorno a tutti eccoci qua nella nostra cucina del blog bocca buona oggi per voi ho una ricetta un po diversa ci portiamo un po di cucina sud americana oggi vi voglio preparare la giuca fritta la giuca potete chiamarla gnocca ha diversi nomi la trovate adesso facilmente nei supermercati ma soprattutto nei negozi etnici la giuca fritta che è il piatto che andremo a preparare oggi è un finger food delizioso con il quale potete sorprendere i vostri invitati e vostri amici a casa seguite me ciao ciao ciao